Emergenza abitativa completamente dimenticata dall'amministrazione Brucchi. La denuncia, l'ennesima, è del gruppo consigliare del PD di Teramo, che torna sul problema delle cosiddette case e parcheggio, il cui accesso alle persone meno abbienti o momentaneamente in difficoltà è limitato dalla graduatoria bloccata e anche dall'operazione infinita di Via Longo. Purtroppo ultimamente l'Aggiunta, comunque l'amministrazione comunale, sta pensando più a chi deve entrare o uscire dall'Aggiunta che ha questi problemi come l'emergenza abitativa che riguarda i problemi dei cittadini. Qual è la potenziale soluzione? La potenziale soluzione è quella comunque di smaltire innanzitutto le pratiche che oramai stanno bloccate dal 2012 e iniziare a prendere comunque quelle nuove che ogni giorno comunque i cittadini portano le richieste al Comune e vorrei anche quantificare le richieste che sono oggi congelate dal 2012 che sono più di 100. Purtroppo i cittadini, oramai oggigiorno, le condizioni purtroppo vanno sempre peggiorando e quindi le richieste le fanno sempre. Anche la situazione di Via Longo, il restyling è fermo? Sì, questa è una risposta che ci hanno dato durante le interrogazioni fatte durante l'ultimo Consiglio Comunale. Via Longo in realtà forse non se lo ricorda l'amministrazione ma deve essere risolta, in particolare il piano di mobilità, entro il 2013. Adesso siamo nel 2016.